Profigua la settimana di allenamenti per il Campobasso che vuole proseguire la scia utile che dura da quattro incontri. Domenica si gioca al Recchioni di Fermo Stadio che ha vissuto i fasti della Serie B soltanto per un anno. Era la stagione 99-2000, la fermana tra i cadetti durò, come appena detto, appena un campionato al termine del quale i canarini, allenati da Ivo Iaconi, precipitarono nuovamente nella vecchia Serie C1. Guarda caso, l'attuale allenatore dei marchigiani si chiama sempre Iaconi, ma Osvaldo, passato alla storia, per la mitica promozione in Serie B da allenatore del Castel di Sangro. Era la stagione 1996-97 e gli abruzzesi sconfissero l'ascoli ai calci di rigore sul campo neutro di Foggia. Dall'amichevole di ieri, tornando al Campobasso contro la Juniores, Vullo ha fornito indicazioni sulla formazione antifermana. Non si potrà lasciare l'ipotesi di un avvicendamento tra i portieri Conti e Maggi. La difesa potrebbe essere già scritta con Scudieri, Minadeo, Bosco e Nicolai. A centrocampo regna qualche perplessità con l'abbondanza che la fa da padrona e questo certamente non potrà rappresentare una problematica. Dando per assodata la presenza di Todino e di un fuoricuota, ci sono da riempire due posti da titolare per quattro giocatori. Questi sono Marinucci, Fazio, ultimamente visto bene da Vullo, Vitone e Pani, quest'ultimo riabilitato dopo l'infortunio. Per il ruolo di under potrebbe prendere quotazioni importanti una maglietta per Cianci, che se chiamato in causa dovrebbe avere il compito di fare bene le due fasi. In ogni caso al Recchioni il Campobasso troverà un ambiente discretamente ostile. La società marchigiana ha pensato di stabilire in quattro euro simboliche il prezzo d'ingresso in curva come incentivo ad assiepare i gradoni dello stadio. Anche dal capoluogo ci si aspetta un buon pubblico a sostenere il Campobasso. In casa Termoli solo una vittoria domenica contro la mai sconfitta maceratese potrebbe sancire una pace tra il pubblico di fede giallorossa e la società. In ogni caso la tifoseria giallorossa ha deciso attraverso un comunicato stampa di disertare le partite interne del Termoli. Una specie di guerra fredda in atto contro l'attuale gestione della società giallorossa. La squadra di Casu deve cercare la cosiddetta sterzata al campionato che può essere data solo con una vittoria ai danni della maceratese, evento che certamente avrebbe del clamoroso. I marchigiani, i unici imbattuti su tutto il territorio nazionale abbracciando le categorie che vanno dalla Serie A alla Serie D saranno pure supportati da un pubblico che dovrebbe superare le 100 unità stando ad alcune indiscrezioni. Il Termoli ha pure prelevato nei giorni scorsi il centrocampista Troccoli proveniente dalla Osta e con un passato pure nell'Olimpia agnonese. In ogni caso il ciclo difficile del Termoli non cesserà domenica. Nelle prossime tre partite, oltre alla maceratese, i giallorossi dovranno vedersela contro Giulianova in trasferta, partita dal sapore di scontro salvezza Cruento e San Benedettese al Cannarsa. Anche l'Agnone si trova a un bivio della propria stagione. Bisogna capitalizzare al massimo il doppio turno interno casalingo che è alle porte contro Giulianova prima e ce l'hanno poi. Gli sforzi da profondere dovranno essere massimi e l'unica soluzione possibile per uscire dalle secche della bassissima classifica dovrà essere soltanto una doppia vittoria. Si pensi che Agnone Celano del prossimo 15 febbraio è una specie di mors tua vita mea per scampare alla retrocessione diretta. La squadra di Donatelli tra una settimana sicuramente tiferà pure per il campo basso impegnato nella trasferta di Pesaro. Il tecnico Granata non potrà disporre dell'infortunato Paiuca che è vittima di un problema muscolare. In dubbio altre due pedine. Si tratta del portiere Beasella, le prese con una piccola contrattura e di Lullo che ha un problema al ginocchio. Entrambi però sono sulla via del recupero e potrebbero far parte dei convocabili anti Giulianova.